Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione dal territorio. Ancora una notte di paura in un hotel di Abano Terme, in provincia di Padova. La scorsa notte un'asciugatrice ha preso fuoco e gli ospiti sono stati fatti evacuare dall'hotel. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Un'ala dell'albergo era stata completamente invasa dal fumo. Hanno lavorato sul posto i vigili del fuoco di Abano e di Padova con tre squadre. Gli ospiti, in gran parte anziani, sono stati portati all'esterno e assistiti e controllati dal personale del 118, intervenuti con due ambulanze. Dopo un monitoraggio delle stanze, le persone evacuate sono state fatte rientrare nei propri alloggi. La sera prima, ricorderete, era accaduto un episodio molto simile, ma il principio di incendio in quel caso era stato provocato da un FON e anche in quel caso erano stati fatti uscire dalle loro stanze i 150 ospiti che erano in camera. Adesso dobbiamo parlare di furti perché non si placano le razzie notturne a Padova. In centro città, ogni notte una banda ha preso di mira i locali, i locali dove si consumano cibo e bevande. Sentiamo. Sembra quasi una beffa. L'azione dei balordi nei locali di Padova continua. Ogni notte un locale viene violato. Un'azione sistematica che si consuma in pochi minuti, lasciando una scia di danni agli esercenti. La città si è mobilitata, le forze dell'ordine, il sindaco e il prefetto continuano a studiare strategie, ma i malviventi se ne infischiano, non temono nulla e proseguono con le loro azioni delittuose. Hanno colpito nelle vie più centrali, nei locali più noti e nonostante l'aumento dei controlli l'azione non si placa. La scorsa notte sono andati in corso Milano all'antico Brolo. Il colpo in questo caso non è andato a buon fine, ma i danni che hanno lasciato sono molti. Il sindaco Sergio Giordani appare molto turbato e infastidito da questa situazione che continua a sfuggire di mano e annuncia lo stanziamento di 200 mila euro in favore di sistemi di sicurezza per i commercianti. Oggi il MEF ha emanato la circolare per lo sblocco degli investimenti per i comuni. Ad annunciarlo nel pomeriggio è stato il sottosegretario al MEF Massimo Bitonci che ha aggiunto finalmente dopo cinque anni di centrosinistra in cui nulla è stato fatto per i comuni. Questo governo è riuscito a dare risposta concreta ai territori liberando gli avanzi di amministrazione che rimarranno nella disponibilità dell'ente che lo realizza. Stop quindi alla mannaia di prelievo forzoso per raggiungere i vincoli di bilancio. In manovra di bilancio poi ha spiegato ancora Bitonci è previsto un altro pacchetto per gli enti locali con ulteriori semplificazioni e sblocchi per i comuni virtuosi. La compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella in provincia di Padova ha concluso una complessa attività in materia di spesa pubblica riguardante appalti affidati ad una multi-utility con sede nell'Alta Padovana partecipata da 75 comuni. L'operazione ha evidenziato un danno erariale di oltre un milione e mezzo di euro. Le irregolarità si sarebbero consumate sulle procedure adottate per l'affidamento dei lavori in particolare il servizio di raccolta rifiuti. Sostanzialmente sembra che non avvenissero i bandi di gara ma si procedesse al rinnovo dei contratti tramite proroghe. Un sistema non previsto che avrebbe prodotto maggiori costi. Tre dirigenti sono stati denunciati alla Corte dei Conti. Parliamo del virus del Nilo. Oggi è stata insediata a Venezia la Commissione Permanente. Sentiamo. L'emergenza estiva provocata dalla diffusione del virus del Nilo potrebbe ripetersi con la prossima estate e per non farsi trovare impreparati bisogna studiare il fenomeno, monitorarlo e prendere tutte le iniziative necessarie. Per questo motivo si è insediata oggi a Venezia convocata dall'assessore regionale alla sanità Luca Coletto la Commissione Permanente che avrà il compito di rafforzare e monitorare le attività di tutti gli attori coinvolti a diverso titolo dal fenomeno del virus Western Isle in Veneto. Ne fanno parte i tecnici della Direzione Regionale Prevenzione dell'Istituto Zooprofilattico di Legnaro dell'Istituto Superiore di Sanità dell'ULS, dei Consorzi di Bonifica e una rappresentanza dei Comuni del Veneto. I casi di febbre del Nilo ufficialmente confermati in Veneto sono complessivamente 211 in aumento dai 197 della scorsa settimana. Di questi 152 sono casi con sintomatologia leggera, 59 quelli nella più grave forma neuroinvasiva. È stato ritrovato senza vita Roberto Migotto, l'uomo di 72 anni di Oderzo, provincia di Treviso, scomparso lunedì scorso mentre andava in cerca di funghi. L'uomo era in compagnia di due amici sopra il San Boldo, non distante da Malga Campo. Il corpo è stato visto in un punto impossibile da vedere con i mezzi aerei che erano impegnati nelle ricerche. Il recupero della salma è avvenuto nel pomeriggio di oggi. L'uomo probabilmente è scivolato dal pendio, ruzzolando e cadendo da un salto di una cinquantina di metri. Un 46enne della provincia di Padova è stato arrestato per maltrattamenti e minacce nei confronti della moglie. Episodi di violenza con schiaffi e pugni. La donna veniva aggredita anche davanti al figlio della coppia. I carabinieri lo hanno arrestato dopo aver raccolto numerosi indizi gravissimi. In casa, inoltre, di quest'uomo è stato sequestrato un materiale pericoloso come uno storditore elettrico, un pugnale e una noccoliera. Sempre più persone devono convivere con il diabete. Nel prossimo servizio che vi facciamo vedere parleremo di quanti veneti soffrono di diabete, ma soprattutto parleremo di un nuovo sistema innovativo per misurare la glicemia. Guardate. Sempre più numerosi sono i veneti che hanno il diabete e che ogni giorno devono mantenere la propria glicemia entro un target prestabilito per prevenire serie complicanze. Per molti di loro oggi si consolida tuttavia una nuova frontiera, quella del controllo glicemico continuo con misurazioni non più a spot, ma letture automatiche dei valori e delle fluttuazioni del glucosio, reso possibile da diversi strumenti. Tra questi oggi disponibile un sensore impiantabile sottocute in grado di misurare la glicemia fino a 180 giorni e di inviare attraverso un trasmettitore removibile i dati raccolti allo smartphone su cui vengono visualizzati in modo semplice e intuitivo, capace di vibrare sul braccio allertando in modo discreto che c'è un rischio di ipo o iperglicemia in atto. È dispensato dal Servizio Sanitario Nazionale per chi riceve una diagnosi di diabete di tipo 1 e di tipo 2 in terapia multiniettiva. Questo sensore impiantabile sottocute per il monitoraggio continuo della glicemia è stato al centro di un convegno tenutosi in provincia di Monza in cui esperti diabetologi veneti si sono confrontati con altri colleghi sulla gestione di questo innovativo sistema compatibile con qualsiasi tipo di attività, dalla cena fuori casa alla passeggiata fino all'attività agonistica. In Veneto, come nelle altre regioni d'Italia, la malattia diabetica sta crescendo in modo esponenziale. Attualmente di persone con diabete riconosciute ci sono circa 300.000 persone nel Veneto, quindi circa un 6% della popolazione, come nel nord d'Italia. Di queste persone, il 5% circa è affetto da diabete di tipo 1, che necessita di somministrazione insulinica fin dal momento della diagnosi. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto replicando ai manifestanti dei comitati no grandi navi dopo la protesta di domenica scorsa avvenuta nel canale della Giudecca. Una manifestazione che secondo il primo cittadino è stata un fallimento. Brugnaro ha detto essere costretti a usare le forze di polizia per scortare le navi in uscita da Venezia anziché per fermare i delinquenti è la vera vergogna. La città, dice, si vergogni di questa gente. Ha detto anche di aver visto dei video sui social, gente che faceva il dito medio ai passeggeri delle navi. Non sono i passeggeri, dice ancora il sindaco, doversi vergognare. Devono farlo loro. Sappiamo che tutta la città, gli stessi armatori sono d'accordo nel voler spostare le navi dalla Giudecca. Prima ci chiedono di spostare le crociere e poi strumentalizzano l'idea di sistemare i canali per poterle spostare. E adesso invece parliamo di un grande appuntamento. L'appuntamento si svolgerà sabato a Chioggia. La città si sta preparando al grande evento sportivo. Si svolgerà la Ali Family Run, prevista la partecipazione di almeno 3.000 persone. Ma sì, Chioggia è una grande città del Veneto e non solo del Veneto, è una grande città che ci ha proposto di ospitare un'altra Family Run e noi abbiamo accolto questo con grande entusiasmo. Il progetto nasce all'inizio di quest'anno, devo dire favorito anche dal rappresentante del coni locale Matteo Perini che si è adoperato in tal senso e dall'entusiasmo che l'amministrazione comunale con il suo sindaco e con l'assessore Penso in particolare hanno dimostrato fin dall'inizio. Ma la città di Chioggia ha risposto benissimo a questa prima iniziativa del Family Run con numeri importanti. Questo ci fa ben sperare perché possa essere un evento di successo. Il percorso lo è sicuramente, è un scenario fantastico che è la Laguna dell'Usenzo e quindi speriamo che ci sia una bella giornata di sole. Già circa 2.500 gli iscritti quindi sarà un fiume di colore, di passione e di divertimento. Esatto, è un orgoglio, sembra essere ben allettante anche per riproporla il prossimo anno. Quindi siamo veramente orgogliosi e fieri e grazie a tutti per questa manifestazione. Ho la fortuna di rappresentare tutti gli assessorati più belli dalla cultura all'istruzione allo sport. Questa manifestazione, anche il turismo, quindi questa manifestazione li racchiude proprio tutti. Le Family Run quindi diventano quattro dopo che oggi avremo Sandorna di Piave, poi Dolo per tutta la riviera del Brenta e Mestre il giorno prima della maratona e il 27 ottobre per tutta la nostra città capoluogo. Quindi un progetto che ha sempre nuovi contenuti conferma la finalità benefica perché praticamente la cota di adesione che i ragazzi versano va sostanzialmente divisa a metà tra la scuola stessa che trattiene 2 euro per poter sostenere i propri progetti didattici e il resto viene distribuito a finalità benefiche in particolare quest'anno al progetto portato avanti da Alec Danardi che si chiama Obiettivo 3 per la partecipazione di atleti disabili alle prossime Paralimpiadi. Quindi Family Run ha una sua identità sempre più forte, non è più un evento collaterale ma è diventato un grande progetto metropolitano. Naturalmente il progetto non può che crescere e i numeri che sono stati dati oggi dimostrano che ho già risposto alla grande grazie al mondo della scuola, grazie a tutti per questa nuova Family Run. Nel secondo trimestre dell'anno, nei mesi tra aprile e giugno, il reddito disponibile delle famiglie italiane è cresciuto aumentando dell'1,3% rispetto ai tre mesi precedenti mentre i consumi sono cresciuti dello 0,1% solamente. Lo ha reso noto oggi l'Istat spiegando che il marcato aumento del reddito non si è trasferito sui consumi, risultati quasi stagnanti. Ne è derivata una netta risalita della propensione al risparmio da parte dei cittadini italiani. Ed ora diamo uno sguardo alla situazione climatica prevista. Un promontorio anticiclonico in espansione dall'Europa occidentale manterrà fortunatamente il tempo stabile soleggiato fino a venerdì. Da sabato poi avremo la pressione in diminuzione con condizioni di tempo variabile. È tutto per questa edizione. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di scaricare la nostra app Telecittà dove potete seguire tutte le notizie e la televisione in tempo reale. Vi auguro ancora una buona serata. a presto. Autore dei sovrapposti